Kate, la duchessa di Cambridge, potrebbe essere attaccata nelle memorie del principe Harry che verranno pubblicate entro la fine dell'anno dopo che sono state sollevate preoccupazioni. Il principe Harry, 37 anni, riguarderà la sua vita sotto gli occhi del pubblico, compreso il suo tempo nell'esercito, il matrimonio e la paternità. Il duca di Sussex ha detto che il libro di memorie, che sarà pubblicato da Penguin Random House, sarà scritto. Non come il principe che era, ma come l'uomo che è diventato. Ma il commentatore reale Kinsey Schofield ha affermato che ci sono preoccupazioni che Harry possa mancare di rispetto a Kate insieme a Camilla, duchessa di Cornovaglia. Parlando a GB News, la Schofield ha dichiarato, se il principe Harry e Meghan Markle e i loro figli venissero a celebrare la vita del principe Filippo alla fine di questo mese. Posso assicurarvi che la famiglia reale farebbe di tutto per assicurarsi che fossero al sicuro e protetti e che avessero tutta la sicurezza di cui avevano bisogno. Questa è solo una scusa sciocca per non uscire allo scoperto e incontrare la regina. Ho intervistato Richard Fitzwilliams, mi ha detto qualcosa e ha detto quanto sia arrogante e schifoso pubblicare questo libro durante l'anno del giubileo della regina che ci aspettiamo alla fine dell'anno. Ci sono preoccupazioni sul fatto che Harry manchi di rispetto a Camilla e Dio non voglia, forse manca di rispetto alla duchessa di Cambridge, penso che questo sia un errore per il principe Harry. È difficile simpatizzare con lui, che alla fine è ciò che Meghan e Harry stanno cercando di ottenere dalle persone, quando le loro azioni non corrispondono alle loro parole. Punto punto. La famiglia reale è stata avvertita che il duca ha molto da raccontare poiché il libro dovrebbe essere controverso. Parlando a express.co.uk, il commentatore reale Jonathan Sacerdoti ha dichiarato, sappiamo che hanno questi contratti commerciali in essere con Spotify e Netflix e potremmo vedere qualcosa che ne esce. Grazie a tutti.